Nonostante il buon risultato di Forza Italia, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri non riesce per un soffio ad approdare a Palazzo Madama. Forza Italia arriva comunque al 12,13%. Sospiri era candidato al proporzionale, capolista al Senato per Forza Italia, beffato da Gabriella Di Girolamo dei 5 Stelle. Lui ha avuto comunque un ottimo risultato, al Senato Forza Italia in Abruzzo alla seconda forza del centrodestra, risultato che all'apertura della campagna elettorale era inimmaginabile. Per Sospiri insomma è un punto dal quale ripartire. Forza Italia è la seconda forza politica del centrodestra, in Abruzzo abbiamo quattro, forse anche di più, punti rispetto alla media nazionale, abbiamo rafforzato il risultato complessivo della coalizione. Non dimentichiamolo, bene, felicità, il centrodestra ha vinto le elezioni, sono certo che darà un governo affidabile, efficiente alla nazione, ciò aiuterà molto l'Abruzzo sui dossier di cui abbiamo tanto parlato in campagna elettorale. Poi le elezioni si vincono, si perdono, l'importante è se servono a costruire un pezzo di futuro oppure chiudono dei percorsi. Credo che questa campagna elettorale, almeno per quanto riguarda noi, costruisca un pezzo di futuro. Abbiamo una partita di ritorno che sono le amministrative 23-24, le regionali del 2024, lavoreremo per creare una grande forza moderata, conservatrice e che sarà l'ulteriore spinta per la rivittoria del centrodestra in Abruzzo. Per quel che riguarda il Consiglio regionale, il presidente Marco Marsilio non vuole sentire parlare di cambi di equilibrio, ma ovviamente con l'elezione di Liris e Testa qualcosa cambia nella geografia. Al posto di Testa che andrà alla Camera entra Leonardo D'Addazio, di Fratelli d'Italia. L'elezione di Liris, assessore allo sport e al bilancio, comporta sia la conferma del consigliere meloniano Mario Quagieri, finora subentrato allo stesso Liris e diventato assessore, sia l'ingresso in giunta di un nuovo assessore in sostituzione di Liris. Il nome che circola è quello di Massimo Verrecchia, capo di gabinetto di Marsilio. Sul fronte Forza Italia, invece, sarà staffetta tra Daniele Damaro e Mauro Febbo, probabilmente. Il primo tornerà a fare il capogruppo di Forza Italia, il secondo l'assessore, ipotesi ovviamente al momento. Deve rimpastare per forza perché l'Iris è incompatibile, fa l'assessore, non credo che ci saranno stravolgimenti. D'altronde è una squadra di governo che ormai si avvia il girone di ritorno, è testata, sono scelte che dipendono dal presidente Marsilio, non da me. Io voglio fare gli auguri a questi miei colleghi, di cui sono particolarmente felice per la loro elezione. Sono certo che ci daranno una grande mano.